Questa sera parleremo di un protagonista della storia calabrese che devo dire conoscono in pochi. Il protagonista del libro è il professor Enzo Ciconte di cui parleremo stasera. Attraverso questo libro scritto in maniera molto diretta, molto semplice ma significativo dal punto di vista scientifico emerge un lato, diversi lati anzi possiamo dire di questo personaggio che ha coinvolto la storia cinquecentesca dell'Italia. Si parlerà di lui anche come foreign fighter. Devo dire che su questo argomento spero questa sera di parlare con il professor Ciconte perché sono tante altre sfaccettature secondo me che emergono da questo personaggio. E però sarà simpatico anche per i ragazzi che verranno ad ascoltarci capire perché è stato definito addirittura in questa maniera perché purtroppo ha un'accezione negativa a questo termine. Come sappiamo è legato agli eventi più recenti della storia internazionale ma vedremo appunto che Occhialì e tante altre cose. È un calabrese che è uscito fuori dalla sua terra e solo lì è riuscito ad avere un grande successo. Sembra quasi che sia costabile alla storia di tanti ragazzi di oggi perché Occhialì quando venne rapito dalla sua terra, dalla sua calabria aveva soltanto 16 anni. Ma da lì fu un'ascesa straordinaria. Un'ascesa che però non coinvolse la terra e la cultura d'origine ma un'altra cultura che è quella islamica. Infatti come potremmo vedere anche attraverso la lettura Occhialì fu un grande per la cultura islamica. Grazie.